A volte ritornano. A distanza di 14 anni dalla legge sulla riqualificazione delle aree urbane e a 13 dallo stanziamento dei fondi, circa 103 milioni di euro, finalmente le istituzioni e il vertice del Policlinico Umberto I hanno trovato la quadra per utilizzare le risorse e mettere in sicurezza l'intera struttura. L'avvento del neocommissario straordinario Domenico Alessio, nominato dal rettore della Sapienza Frati e dalla governatrice Polverini circa un mese fa, sembra abbia smosso le acque. Costatata la situazione in cui versa la gran parte dei padiglioni del Policlinico, Alessio ha scritto a Regione e Ministero chiedendo di poter usare le risorse stanziate oltre un decennio fa e il resto del finanziamento regionale, in totale circa 40 milioni, con cui nel 2008 furono ristrutturate le gallerie ipogee per una spesa complessiva di 16 milioni di euro. La priorità ha dichiarato Alessio in un incontro con la stampa e la messa in sicurezza dell'ospedale perché l'alternativa è la chiusura. Atteso quindi a breve il via libera di Regione e Ministero che finora, ha dichiarato il commissario, si sono dimostrati sensibili all'appello. Se non intervengono determinate condizioni, cioè di sostenibilità economica, con la quale possiamo tranquillamente affrontare tutte quelle che sono state le prescrizioni da parte dei vigili del fuoco, da parte dell'ispettorato del lavoro e anche le attenzioni da parte della procura della Repubblica, ovviamente l'alternativa non può essere che quella perché nel momento in cui tu non puoi, la struttura non risponde più alle garanzie di sicurezza previste dal DLGS 81 del 2008, ovviamente qualche decisione si deve prendere perché se no qualcuno può essere ad assumere la responsabilità anche di carattere penale. Domenico Alessio ha voluto precisare che i tunnel sono solo un decimo dei problemi del policlinico e che l'intervento riguarderà l'intero ospedale. In piedi, come hanno ricordato il commissario e il rettore Frati, ci sono le prescrizioni dell'ispettorato del lavoro e della procura che prevedono la regolarizzazione degli impianti entro novembre. Saremo costretti a chiedere un'aderoga dei tempi, ha detto Alessio, con la garanzia di risolvere il problema entro due anni. Per ora, come hanno ricordato Frati e Alessio, ad essere subito disponibile ci sono 30 milioni di euro che serviranno per i primi interventi di messa in sicurezza e quindi rifacimento degli impianti. Tutte le cose che non garantiscono un lavoro tranquillo e sicuro ai lavoratori, quindi a tutti gli operatori della sanità e in modo particolare ai pazienti ricoverati, a tutti coloro che circolano all'interno dell'ospedale per richieste di cure, frequentano ambulatori, poliambulatori eccetera, tutte queste persone devono essere tranquille perché assolutamente l'ospedale è una struttura sicura, quindi rispettosa delle previsioni di legge. Nato oltre 100 anni fa, l'ospedale rappresenta ancora oggi la storia della medicina italiana, non senza punte di eccellenza. Ma i segni del tempo e del secolo alle spalle sono però ben visibili. I muri scrossati, le condotte degradate, gli impianti fatiscenti hanno fatto parlare i giornali e arricchito le inchieste per anni senza che nessuna amministrazione regionale né direzione ospedaliera riuscisse a trovare una soluzione. In verità, dopo lo stanziamento nel 2001, ben due direttori generali hanno redatto un masterplan, ossia un piano di ristrutturazione. Quello dell'ex manager Ubaldo Montaguti è forse il più noto e criticato dal momento che prevedeva il rifacimento totale dei batiglioni senza l'avallo degli enti locali e della sovrintendenza dei beni culturali. Oggi il rettore Frati non fa sconti, rimprovera le scelte dell'ex direttore Montaguti che non portarono a nulla vista la situazione di stallo, ma non vuole nemmeno infangare l'opera dell'avvocato Capparelli, dimessosi un mese fa. Il masterplan è integrato fra la ristrutturazione e la messa in sicurezza, perché non si capisce perché facessero le cose separate, per cui la mano destra non sapeva quello che faceva la mano sinistra. Quindi è un aggiornamento, il masterplan già mandato alla regione, quella ricostruzione, la ristrutturazione conservativa, come è venuta al San Camillo, sul quale la sovrintendenza dei beni culturali ha già dato il proprio nulla vostro, il comune è uguale e credo che l'impegno della regione e del direttore Alessio sia estremamente importante per finalmente arrivare a meta. Il sogno mio è quello di vedere camere a un letto, due letti con bagno interno per la dignità dei malati, un ospedale sicuro, un ospedale efficiente, ristrutturato anche per economizzare sulla gestione, perché questa dispersione poi costa apposta a un aumento dei costi che non soltanto per i tempi che corriamo, ma sempre deve essere con grande attenzione da parte degli amministratori. Si ricorda quanto è costato il masterplan precedente, quello che non è mai stato attuato? Quale? Quello di Montaguti? Non ne aveva domandato a lui. Io voglio dire che tutti sanno che sono sempre stato critico su queste cose di cui si sapeva, da quello di Longhi a quello di Montaguti sapevano, c'è un comitato tecnico paritario, azienda del demanio, università, sovrintendenza, comune, regione, Montaguti, in cui viene rilevato che sono soldi certamente non spesi con l'occhio del buon padre di famiglia.